Questa non è una magia, è un caricabatterie wireless. Spesso mi piace fantasticare sul futuro e come saranno usate le nuove tecnologie. Per esempio, per quanto riguarda la tecnologia wireless, posso immaginare che uno passa, va in albergo, appoggia il suo cellulare e lo carica tranquillamente sul tavolo, ovviamente se non glielo rubano. Certamente non mancheranno le applicazioni che ti avvisano appena qualcuno toglie dalla carica wireless il tuo cellulare, così eviti che te lo ruba. Per esempio, se sei al ristorante e stai mangiando, appoggi il tuo cellulare sul tavolo, si carica. È una cosa bellissima. Una cosa invece non del futuro ma del prossimo video è i caricabatterie wireless della macchina. Entrate in macchina e avete il supporto che vi tiene il cellulare e non dovete attaccare nessun cavo perché appena lo appoggiate inizia a caricare. Ma come funziona la carica wireless? Esattamente come questo magnete induce corrente in questo cavo avvolto, ovviamente muovendo il magnete, all'interno dei nostri apparecchi abilitati alla carica wireless abbiamo sempre una specie di cavo avvolto nel quale il nostro caricabatterie wireless induce una corrente, non muovendosi, ovviamente non si muove, ma muove il campo elettromagnetico tramite un circuito elettronico. Quindi muovendosi induce corrente e quindi il nostro cellulare preleva questa corrente e carica la sua batteria. Nel mercato ormai ci sono tanti tipi e tante forme di caricabatterie e oggi vedremo come scegliere il caricabatterie o wireless più adatto alle nostre esigenze. Per esempio questi due caricabatterie sembrano uguali ma in realtà se giriamo questi caricabatterie, se andiamo a leggere le specifiche su questo caricabatterie troviamo che prende come input 5 volt massimo 2 ampere e come output 5 watt. Invece questo che sembra identico prende sempre 5 volt a 2 ampere ma ha la possibilità anche di prendere 9 volt a 1,7 ampere e questo si traduce in una potenza maggiore che come potete notare qui c'è scritto 10 watt. Infatti questo caricabatterie è abilitato al fast charge invece questo non è abilitato al fast charge. E' tradotto in soldoni se metto il mio cellulare sopra che adesso è carico al 6% andiamo a vedere e leggere che ci impiegherà 3 ore e 16 minuti con questo caricabatterie. Invece se collego questo che è abilitato al fast charge possiamo notare subito che il tempo di carica scende a 2 ore e 40 minuti. Cosa da non sottovalutare considerando che caricando il cellulare con un caricabatterie standard quindi non fast charge ci impiega 1 ora e 55 minuti a caricarsi. Invece se adesso inserisco nello slot del fast charge il nostro cellulare tramite cavo ovviamente ci impiega 1 ora e 35 minuti. Ovviamente questo è possibile solamente se il nostro apparecchio o cellulare supporta il wireless fast charge e abbiamo una sorgente che in questo caso era una batteria che ha una porta fast charge o in alternativa un caricabatterie fast charge. Altrimenti io opterei per un caricabatterie wireless come questo qui che non è abilitato fast charge quindi non può caricare a 10 watt però alimentandolo con un caricabatterie normale con una porta non fast charge a 2 ampere riesce a caricare fino a 7,5 watt. O meglio ancora un caricabatterie come questo che come potete notare ha le stesse specifiche tecniche solo che ha all'interno tre bobine di filo disposte differentemente nella struttura così da poter appoggiare il nostro telefono per esempio così o così o anche magari lo appoggiamo un po' un po' male ma comunque alla fine riusciamo a prendere una delle tre bobine e quindi caricare efficientemente lo stesso il nostro cellulare. Nel mercato esistono anche dei caricabatterie stand come questo per esempio che oltre ad avere il fast charge ha anche tre bobine all'interno che ci permette di per esempio vedere un film mentre stiamo mangiando e caricando il nostro cellulare o ci permette per esempio mentre stiamo caricando di fare una chiamata video in ufficio tranquillamente o anche utilizzare il nostro cellulare. O meglio ancora un caricabatterie come questo che ha all'interno una ventola perché la carica wireless in realtà genera un po' di calore quindi dissipa il calore raffreddando il nostro cellulare durante la carica cosa che è migliore per la salute della nostra batteria. Inoltre un buon caricabatterie deve poter caricare la nostra batteria con o senza custodia la custodia ovviamente deve essere sottile che come potete notare adesso senza custodia riesce a caricare con il fast charge questo caricabatterie a 850 mAh. Adesso mettiamo la custodia e vediamo a quanto carica. Infatti come potete notare questo caricabatterie nonostante la custodia non perde la sua potenza di carica e sicuramente se volessi scegliere tra questi caricabatterie andrei ad escludere questi due che caricano lentamente o in alternativa li metterei nella camera da letto per caricare durante la notte perché una carica lenta fa bene alla nostra batteria. In alternativa per chi viaggia questo sarebbe molto comodo da portare in giro ma questo sicuramente è molto meglio perché ha il fast charging. Questi invece sono i miei due caricabatterie preferiti da mettere in ufficio o anche in cucina e quando metto il cellulare sopra e qualcuno mi chiama riesco a vedere chi mi sta chiamando o anche il messaggio eccetera eccetera. C'è da dire che però sicuramente questo non lo metterei nella camera da letto perché mia moglie ha il sonno leggero nonostante che la ventola è abbastanza silenziosa. Quindi c'è da tenere in considerazione anche questo nonostante che la ventola sia molto utile specialmente d'estate. Tutti questi caricabatterie wireless che ho testato arrivano con il loro caricabatterie USB e micro USB che ovviamente ho testato con l'aggeggino diabolico e supportano fino a 3A quindi sono degli ottimi cavi. Tutti questi caricabatterie wireless utilizzano la tecnologia Qi che è una parola cinese si scrive Qi quindi compatibili con la maggior parte dei cellulari che siano Android o anche iPhone ma vi suggerisco di andare a leggere la compatibilità nei link che vi lascio giù nella descrizione di questo video. Nel frattempo vi saluto e mi raccomando iscrivetevi.